non ci sono andata manco io, quindi è tutto da vedere, la dobbiamo organizzare si ma dici qualcosa, non ci lasciare così, che sarebbe? Allora no, ho un collega che abita a Caldarola, in pratica siccome dove lavoro io e i ragazzi della scuola sono andati a fare un progetto che si chiama Piano delle Arte a Vestignano, piccola frazione Caldarola dove c'è una chiesetta in pratica col terremoto che è stata chiusa ma dove ci sono tutti i guardi dei magistri, sono importanti allora vorrebbero ristrutturare, ma siccome è sempre piccolina, vorrebbero attirare un po' attenzione cercare di creare qualcosa intorno al paese e nelle vicinanze in modo tale da poter aiutare la comunità a non andarsene e a creare qualcosa allora si poteva magari avvinare una passeggiata ha qualcosa di importante, se noi parliamo, prendiamo i contatti, ci organizziamo con loro ci possono organizzare, aprire qualche chiesa, qualcosa e fare anche una visita culturale ah interessante, grazie